L'Umbria diventa protagonista del ciclismo d'epoca. Il 22 e 23 aprile torna infatti la Valentiniana, la manifestazione cicloturistica per biciclette d'epoca e gravel, che attraverserà tra l'altro Piediluco, la Valnerina, la Cascata delle Marmore. Gli organizzatori sono già al lavoro per fare di quella del 2017 un'edizione davvero speciale e questa mattina a Piediluco e alla Cascata per girare lo spot promozionale dell'evento è arrivato niente meno che Alessio Stefano Berti, uno dei pionieri in Italia del ciclismo rievocativo d'epoca. La sua presenza oggi qui a Piediluco alla Cascata delle Marmore è un'anticipazione di quello che vedremo in primavera. Che cosa state preparando? Noi stiamo allestendo una ciclo storica, una manifestazione per ciclismo d'epoca che raccoglie diversi appassionati appunto della storia del ciclismo e prepariamo la Valentiniana, una manifestazione attraverso questi meravigliosi luoghi con delle biciclette datate e con abbigliamento filologico, tanto per ricordare il ciclismo di allora, il ciclismo di una volta. Ci saranno, potrete vedere ciclisti vestiti un po' come me negli anni venti ma anche ciclisti anni settanta, anni cinquanta e vestiti in base alla bicicletta, al tipo di bicicletta che useranno. La Valentiniana sarà inserita quest'anno in un circuito più grande? Sì, un ciclismo importante, si chiamerà Grand Tour, raccoglierà diverse manifestazioni che andranno da qui ad Orvieto, a Milano, nella Romagna, fino ad arrivare fino al Trentino con la gibo storica che sarà l'ultima. Le premiazioni le faremo durante la settimana santa dell'eroica, la madre di tutte le ciclo storiche, a Gaiole e in Chianti. Questo sarà il primo di ottobre.